Si è fatta vedere sul ponte di volo della porta aerei Cavour della Marina Militare Italiana, 240 metri fuori tutto che sono sembrati andare un po' stretti alla Supercar di Sant'Agata Bolognese. Sarà prodotta in una tiratura di sole 9 copie nel 2014, decisamente una vettura che definire esclusiva è ancora poco. Perfetto esempio di icona dell'auto sportiva italiana, costa 3.300.000 euro tasse escluse. Il prototipo da corsa, caratterizzato da linee più che eleganti, diremmo decisamente belle, e prestazioni adeguate al suo ruolo di protagonista assoluta. Spinta da un V12 di 6 litri e mezzo di cilindrata, la Veneno Roadster scarica a terra 750 cavalli attraverso la distribuzione sulle quattro ruote grazie a un sofisticato sistema di trazione integrale, la nuova Lambo scoperta ha numeri da record in ogni direzione. Il rapporto peso-potenza è inferiore ai 2 kg per cavallo, la velocità di punta raggiunge i 355 orari e l'accelerazione da 0 a 100 ferma il cronometro a 2 secondi e 9.